Protesta anche le contorenze e la riforma? Una marea di manifestazioni, vogliamo ricordare quali? Non lo so. Però Renzi con il gessetto e la lavagna l'ha visto? Renzi che spiega la riforma? Io sono vecchio, Renzi non lo conosco, sinistra, centro-sinistra, destra. Mi sono sempre fatto le cose radicali con i contenuti. Allora c'era divorzio clandestino di massa, c'era aborto clandestino di massa, lotte vere di classe. A botteghe oscure, devo dire, non andavano molto di moda. Obiezioni di coscienza e servizio militare, professionale, non più obbligatorio. Queste sono le riforme e di qui spero che anche questo andrà in più le direzioni.